www.av Untertitel.info Io non ci vedo un cazzo. No, veramente non vedo niente. Se join, wallet ban. Ci credo poco. Sì. Cazzo. Che... Ah, c'è un shakhin. Ma dove era? Madonna mia. Me lagga troppo. La pinta a 300. E questo è un muoio di internet. E allora, non devi stare all'altro. Comunque, esco di qua.